Per preparare il goulash affettate finemente le cipolle e lasciatele appassire con il burro in una padella Tagliate la carne a pezzi di circa 4-5 cm Infarinatela, poi fatela rosolare nella casseruola con le cipolle Infine aggiungete la paprika, il peperoncino, il sale e il pepe Mescolando delicatamente perché si amalgami tutto Unite il brodo e lasciate cuocere per circa 2 ore sempre mescolando e aggiungendo eventualmente altro brodo Nel frattempo tagliate a pezzi grossi le patate già allissate e unitele alla carne a fine cottura